Suonano da casa la marcia per il sultano del celebre compositore Gioacchino Rossini. Registrando a distanza per rispettare le norme imposte e alletare la quarantena, l'orchestra Fiati del Montefeltro, diretta dal maestro Davide Barbatossa, ha voluto lanciare un segnale di positività e di rilancio sociale per il futuro. Un messaggio di vicinanza a chi sta vivendo una fase critica, agli operatori sanitari, a coloro che non possono abbracciare e a tutte le persone sole. Noi tra l'altro siamo un gruppo giovane, ci siamo costituiti tre anni fa e in questi momenti vogliamo dare un segnale importante perché la musica è arte e come tutti i tipi di arte viene racchiusa nella cultura e come si sa la cultura unisce. Quindi il nostro messaggio è proprio questo, insomma, di unire tutti coloro che producono un'arte, che la contemplano. E noi, ovviamente, essendo dei musicisti, cerchiamo di far arrivare delle note che facciano rinsavire un po' l'anima dei cittadini, degli ascoltatori, in questi particolari momenti. Quanti musicisti hanno preso parte all'iniziativa? Allora, in questo caso 25 musicisti, però noi abbiamo un organico più allargato ma ovviamente per motivi contingentati a questa situazione non tutti purtroppo hanno potuto partecipare però, insomma, abbiamo sempre un organico vispo e pronto che ci ha dato risposta e siamo riusciti, diciamo, a realizzare la marcia per il sultano appunto di Giochino Rossini. Noi con questo messaggio culturale vogliamo ricordare a tutti che bisogna sempre essere uniti perché da soli purtroppo non si va da nessuna parte e noi, sia a livello umano che a livello artistico, vogliamo dare appunto proprio questo messaggio che uniti si può vincere. Grazie a tutti! Grazie a tutti!